Quindi riassumendo un attimino quello che ci siamo detti, la gestione via runtime su HMWin è senza dubbi la gestione più veloce da impostare, ma è molto più, passatemi il termine, rigida di quello che è possibile fare con il programma PLC, quindi tramite l'interfaccia FPConfig. Dal suo però ha una gestione di bufferizzazione già implementata e la possibilità di gestire gli allarmi separatamente e inoltre anche di avere un parsing automatico. Tutte cose che dal programma PLC invece dobbiamo mettere in piedi noi tramite proprio l'implementazione del nostro progetto del PLC. La scelta chiaramente tra le due, delle due soluzioni, quale sia la più giusta per l'applicazione, dipende da quello di cui avete bisogno per arrivare all'obiettivo finale.